Amici di Milan.soccer, eccoci ancora con l'appuntamento, il terzo appuntamento della giornata, mi raccomando come sempre a voi perché siete la parte più importante di questo canale, è una piccola raccomandazione ma per noi un grande gesto ed è quello di iscriversi al canale, qui sotto da qualche parte c'è scritto iscriviti, è possibile anche abbonarsi per poter entrare in contatto con noi per domande, per questioni e dunque approfondimenti in maniera diretta, è con noi come sempre il direttore che ci viene a trovare con un balzo felino come se fosse un gatto e vediamo di farci vedere anche noi oltre il prepotente Sangria. Allora la prepotente Sangria, dicevamo nei video precedenti che l'eliminazione dalla Champions League ci porta a fare una riflessione per quanto riguarda i ricavi del torneo, dunque il Milan nonostante abbia sconfitto il Newcastle purtroppo esce per effetto del rapporto gol fatti, gol subiti e in particolare il rapporto è con il Paris Saint Germain. La partecipazione alla massima competizione europea ovvero la Champions League che dalla prossima stagione cambierà format, ora purtroppo questa eliminazione ci dà un altro brutto dispiacere, cioè la non partecipazione al mondiale per club, andranno dunque Inter e Juventus a competere, io non sono dispiaciuto e vi spiego anche perché, perché è una competizione sperimentale, è una competizione che si svolge nei soliti paesi che hanno disponibilità di petrol dollari e che da un certo punto di vista, vista e considerato il periodo di svolgimento, intercede con quelle che sono le preparazioni atletiche, no non è la volpelluva, state pur tranquilli perché noi siamo praticamente gli unici ad averla vinta, quella vera intendo dire, non l'altra che poi è diventato un super torneo birra moretti, quindi state pur tranquilli, sereni che per quanto riguarda il Milan le ha vinte proprio tutte, anzi forse l'unica che non ha vinto è l'Europa League, quindi andremo a fare anche quello, resta comunque una cospicua risorsa economica e in particolare per quanto riguarda la partecipazione ha portato fino ad oggi nelle casse del Milan alla Champions League 15 milioni e 64, 640 mila euro, in questo senso però dobbiamo considerare che per quanto concerne la mancata qualificazione, ecco infatti stavo guardando proprio in questo momento le cifre relative alla partecipazione all'Europa League, sono cifre decisamente più basse ma che vanno ad ammortizzare quella che è la mancata partecipazione alla Champions League, considerando che per quanto riguarda noi tifosi del Milan che siamo unici nel mondo che poi venga il Real Madrid o venga il non so quale squadra in giro per l'Europa, San Siro sarà sempre piena, è tutto esaurito contro il Monza, è tutto esaurito contro la Frosinone, il Milan è il Milan, quindi sui ricavi mi sento abbastanza tranquillo, certo se fossimo andati fino in fondo in Champions League sarebbe cambiato tutto ma non abbiamo la forza in questo momento per poterlo fare, mi auguro che ce l'avremo. Allora un'altra questione che anche ieri si è verificata ed è la questione relativa ai cartellini gialli, basta, troppi, a me l'arbitro a dirla tutta non è piaciuta perché insomma ci sono stati degli interventi, quello su Calabria vabbè forse è stato il più fortuito, però in generale ci sono stati degli interventi molto più cattivi delle proteste di Leao dell'allontanamento della palla di Teo Hernandez, Teo Hernandez vabbè ormai il record del mondo, comunque gli ammoniti sono Leao a munizione stupida, la solita, Mignan evitabile e poi ancora Jovic siamo a tre, Musa quattro, Florenzi cinque, non è possibile prendere cinque cartellini gialli in campionato e in Europa ogni partita perché già dobbiamo fare i conti con un'infermeria e anche di questo intendo parlarvi perché, ma ci arrivo tra un attimo, non è possibile prendere cinque cartellini gialli, questo è un disagio interno che oggettivamente mi preoccupa parecchio, perché mi preoccupa? Perché non è tanto il fatto che possano saltare una gara o due gare, anche perché in difesa non abbiamo più nessuno, mi preoccupa soprattutto il fatto che noi non abbiamo quell'umore, quell'amalgama di squadra che è necessaria e che ti fa vincere anche quando non sei la più forte. Per quanto riguarda gli infortuni, c'è un piano recuperi degli infortuni, sicuramente Leao ha bruciato un po' i tempi, Ben Asser ha bruciato un po' i tempi, ieri e diciamo che il discorso è un po' diverso per Noa Okafor, anche per quanto riguarda lui abbiamo accelerato molto i tempi, io spero che queste accelerazioni, al di là poi ne parleremo dell'emergenza della difesa, non siano delle accelerazioni che possano portare anche altri disagi, quindi andremo poi nelle prossime ore a vedere esattamente quale sarà il Milan che scenderà in campo contro il Monza. Allora, per quanto riguarda la questione della difesa, il Kier, che ha riscontrato un affaticamento muscolare, io credo che ci siamo per quanto riguarda la sua possibile convocazione e magari contro il Monza rivedere Teo Hernandez a sinistra e Kier e Tomori al centro. Ieri ho visto anche un Bartesaghi, un po' in imbarazzo, ma insomma è molto giovane, bisogna dargli del tempo. Il piano infortuni prevede dunque che nelle prossime giornate, nelle prossime ore quella montagna di nubi inizia un po' a schiarirsi e da lì si schiariscono le idee per la campagna acquisti, perché sicuramente abbiamo perso per lungo tempo alcuni giocatori, quindi per poter adesso far fronte al campionato e all'Europa League bisogna senza meno acquistare un terzino sinistro e un centrale di difesa. È imprescindibile, siamo forse ancora di più dell'attaccante in questo momento, per quanto l'attaccante, l'avete visto, insomma, c'è costato il posto in Champions League, cioè l'attacco c'è costato il posto in Champions League. Va bene, vedo che mi si sta scaricando anche la batteria, quindi vi saluto. Ah, e vi do appuntamento a domani mattina con una bellissima novità. Dai, cerchiamo di essere un po' positivi. A presto, ciao da me e da lei.